buongiorno ragazzi oggi un video un po' particolare video un po' particolare perché ho visto che molti avete comprato la stampante 3d quella che ho fatto il video la volta scorsa e molti ancora che sono magari intenzionati a prenderla a comprarla mi hanno chiesto stefano scusa ma è difficile da settare ma è difficile da farla funzionare ma devi andare a modificare qualcosa no ragazzi adesso vi voglio proprio dimostrare passo passo come fare a risolvere un problema che ci può capitare nel quotidiano e qui davanti abbiamo un esempio queste sono le chiavi a torx e le chiavi esagonali della parkside ok quelle che comprate la parkside le trovate spesso io le ho comprate le ho trovate in una valigetta ovviamente per il mio lavoro non posso tenerle nella valigetta per quale motivo perché le uso sempre le uso costantemente e quindi le tengo sempre a portata di mano ovvio che tenerle così in modo disordinato non è cosa quindi cosa ho fatto ho detto visto che ho la stampante 3d voglio cercare un portachiavi torx e un portachiavi esagonali non portachiavi nel senso di portachiavi ma un holder dove poterle sistemare e tenerle sulla scrivania a portata di mano oppure tenerle come tengo queste queste sono quelle in pollici e anche queste della parkside voglio metterle in un holder simile a questo qua ok allora abbiamo la stampante 3d come facciamo seguitemi ragazzi vi voglio far vedere com'è facile com'è semplice realizzare gratuitamente un holder per poter sistemare queste chiavi inglesi venite con me vi faccio vedere passo passo tutti i passaggi che dovete fare a costo zero ok ragazzi mettetevi davanti al vostro computer e dovete fare una semplicissima cosa ci sono tre siti tre siti dove potete scaricare gratuitamente qualsiasi tipo di progetto qualsiasi tipo di cosa voi volete stampare tutto gratuito allora i siti che dovete andare ve li ho già elencati diverse volte anche sul gruppo dovete andare su thing verse vedete questo sito qua segnatevelo questo è il primo è gratuito poi secondo sito maker world vedete maker world terzo sito io ve li dico tutti e tre perché sono quelli gratuiti printable ok adesso andando su questi siti e mettendo qua nel motore di ricerca io adesso vi ho già messo parkside su tutti e tre anche su maker world vedete ho inserito parkside e anche su printable che è gratuito anche printable ho messo parkside vedete anche su printable giusto per farvi vedere che avete ben tre siti gratuiti dove scaricarvi tonnellate di roba io ho messo parkside perché adesso abbiamo bisogno del dei porta del holder per le torx e per l'esagonale su printable mettendo parkside scorrendo guardate quanti progetti ci sono gratuiti questo è il porta batterie anzi cos'è un adattatore per poter alimentare quello che volete come ho fatto con la boombox che ho lassù in alto alimentata con le batterie della parkside potete alimentarci qualsiasi oggetto a 12 volta e ancora andiamo avanti ve li faccio vedere velocemente guardate per quanto riguarda questo e poi vi potete stampare il morsetto se vi si è rotto il morsetto ve lo andate a stampare vi andate a stampare i porta batterie ce n'è di ogni questo è il porta saldatore ve lo andate a stampare voi tutto gratuitamente gratis questo sia su vi dicevo printable anche su maker world stessa cosa vi serve il porta chiavi della parkside tac venite qui ve lo scaricate stesse cose che bene o male trovate anche sugli altri siti i gancini i porta chiavi a cricchetto il porta dremel chiamiamolo così trovate guardate questi sono tutti progetti gratuiti guardate adesso ne andiamo a scaricare uno e vi faccio vedere i passaggi per stamparlo velocemente io vado di solito vabbè uno dei tre andiamo su thinkverse vedete anche su thinkverse ci sono tanti progetti tanti adattatori anche per le batterie quelle della makita se volete farvi l'adattatore della makita per le batterie della makita l'adattatore della enel qualsiasi cosa venite qua e ve la trovate per potervela scaricare stampare con la stampanter della ender allora io adesso in questo spazio cosa vado a scrivere o come vedete ho scritto parkside adesso vado a scrivere torx eccoli qui guardate li abbiamo trovati ci clicchiamo sopra e vi fa vedere questo qui è il nostro porta cosa che io adesso me lo voglio scaricare per andarlo a stampare vedete com'è come funziona la cosa una volta che siete qui non dovete altro che andare qui su download cliccare download file vi si apre questa schermata che vi dice in tre secondi il file verrà scaricato due uno guardate qua su in alto bella scaricato ok e qui in questa cartella qui in alto guardate vedete io vado ad aprirla eccolo qua nella cartella ci sono i file ci sono le immagini giusto per farvi vedere che sono proprio le immagini quelle del del torx qui vi fa vedere come viene stampato questa è l'immagine di del del pezzo sulla stampa cos'è che c'è più insomma alla fine della fiera ve lo sono scaricato ok adesso vi faccio vedere i passaggi che dovete fare andate nei file questo ci sono due file uno per il porta chiavi del torx e uno invece per quelle esagonali vedete eggs e torx ok io voglio voglio stamparmi quello delle torx clicco sul file due volte guardate come la semplicità io adesso utilizzo cura però voi potete farlo anche con creality print il programma che trovate nella stampante sono identici io mi trovo meglio con cura e faccio con cura benissimo guardate me la me la ve l'ha già messo qua sul piatto questo è il piatto virtuale di cura ok guardate io non sto andando a toccare nulla perché dicono ma tu stefano devi andare a modificare io non sto modificando nulla guardate non ho modificato proprio niente ho giusto messo i supporti ho spuntato la casella supporti ma era già spuntata perché l'ho messa nelle opzioni fin dall'inizio vado altro che a schiacciare su slice guardate lui va a calcolare ta 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 mi va a calcolare lo slice in tempo reale quando ha finito di caricare guardate i passaggi che sto facendo guardate come sono semplici adesso guarda tutto in diretta ok ha finito adesso gli dico salvamelo cliccando sempre qui sulla schedina vedete me l'ha salvato sulla schedina adesso gli dico e tirami via la schedina facendo anche e jet avete sentito io adesso posso andare a togliere la schedina ok e ho già l'holder sulla schedina pronta da stampare guardate come semplice non sto tagliando nulla mi avvicino alla macchina guardate metto la schedina all'interno della macchina andiamo ad accenderla io qua c'ho la mia saracinesca tiriamo sulla saracinesca creality vedete si è acceso dopo di che gli dico vami a stampare l'holder che ho appena caricato questo me lo devi stampare ok non fare manco il livellamento tanto la calibrazione l'abbiamo già fatta vammela stampare bene ragazzi adesso lui me lo andrà a stampare e fra qualche ora ovviamente non è un fulmine questa stampante fra qualche ora io avrò l'holder per le mie chiavi adesso ovviamente dovrà fare tutta la sua procedura di preriscaldamento perché l'ho appena accesa infatti come vedete qua in basso adesso andrà a riscaldare il piatto e poi comincerà a stampare ragazzi ve lo sto facendo proprio in diretta per farvi vedere la semplicità di come di come è facile usare una stampante 3d non c'è bisogno di configurare nulla ho configurato qualcosa io non ho configurato proprio niente bene ragazzi la stampante ha cominciato il suo lavoro come vedete è entrata in temperatura ha raggiunto la temperatura il file è sempre quello torx holder e niente adesso vediamo man mano i progressi come andrà a salire questo porta chiavi a torx sta cominciando già a disegnarlo man mano salirà fino a che non l'avrà finito ed ecco la stampa finita ragazzi cioè dopo quanto ci ha messo 4 ore tempo di stampa 4 ore 32 minuti 100% completato gli date l'ok premendo con la rotella fine basta è finita guardate adesso andiamo a staccare dal piatto la inserisco qui vi faccio vedere come si presenta il risultato finale adesso prima di andare a collocare il pezzo dobbiamo togliere i supporti in più quelli che ha creato questi alberi che queste forme a forma di albero si chiamano alberi sono dei supporti che servono per andare a stampare le parti sospese ovvero i fori che poi servono per inserire le chiavi e dato che non può stampare nel vuoto la stampante crea questi supporti in modo da appoggiare su il filamento e andare a creare l'oggetto adesso comunque si sganciano poi una volta finito si tolgono noi adesso non andiamo a pulire e poi dopo vi faccio vedere ragazzi eccolo qua guardate lavoro finito pulito perfetto venuto veramente bene e come avete visto adesso ho già mandato in stampa anche il secondo quello per le chiavi esagonali non è stato nulla di complicato e al 99 per cento e così vi scaricate il progetto mandate in stampa se poi non dovesse venire a volte ho notato ci sono alcuni progetti che magari sono stati fatti per una macchina e quindi vengono tradotti un po male o manca qualche pezzetto e non vengono stampati bene però poi col passare del tempo col passare dei giorni prendete un po esperienza capite come dovete ruotarli sul piatto e le andate a stampare bene ragazzi adesso aspetto che finisce anche quello poi vi faccio vedere il lavoro finale ci salutiamo bene ragazzi abbiamo finito anche il secondo holder quello per le chiavi esagonali vedete il primo l'abbiamo già fatto abbiamo finito anche il secondo adesso lo andrò a staccare dal piatto e poi vi farò vedere com'è ma prima di andarlo a staccare vi volevo fermare un attimo e soffermarmi sui supporti ovvero perché molti diranno ma stefano cosa sono questi alberi tu li chiami alberi cosa sono queste queste ramificazioni insieme all'oggetto ma poi si staccano non si staccano sì ragazzi vi dico solo cosa servono e cosa sono sono delle ramificazioni perché si chiamano alberi train inglese che servono per andare a creare un supporto come dei punti dei punteggi adesso vi faccio vedere tipo quando la stampante va a stampare qua sopra dove sotto c'è del vuoto vedete questo è il buco dove andrà inserita la chiave ora se non ci fosse questo supporto questo albero chiamiamolo così la stampante non potrebbe andare a stampare nel vuoto perché rilasciando il filamento colerebbe cadrebbe giù e quindi non riuscirebbe a creare questa specie di arco vedete quindi cosa succede dobbiamo andare a dire creami in automatico lo fa in automatico lo slicer il programma quando ci sono dei pezzi tra virgolette complessi dove ci sono dei buchi o delle parti sospese a quel punto gli dobbiamo dire creami supporti lui andrà a creare queste specie di ramificazioni che vanno temporaneamente ad andarsi a collocare in quei punti dove passerà poi la stampante per rilasciare il filamento e creare il nostro il nostro progetto una volta poi finito questi queste ramificazioni sono state stampate in modo proprio sottile sottile millimetro quindi come le andiamo a toccare si spezzeranno si romperanno si sbriciolano letteralmente e rimane poi solo il pezzo bello pulito e fatto adesso comunque l'andiamo a pulire andiamo a toglierlo dal piatto vi faccio vedere il risultato finale vedete come semplice togliere tra virgolette le ramificazioni perché sono fatte apposta e poi essere tolte in modo facile vedete voi le andate a togliere dai vari buchi e una volta poi che è finito vi rimane il pezzo pulito ragazzi progetto finito terminato abbiamo i nostri due holder ce li siamo stampati li abbiamo scaricati a costo zero e fatti veramente in modo con una semplicità disarmante avete visto utilizzare questa stampante è una cosa veramente semplicissima non bisogna configurare nulla anzi adesso devo anche andare a dirgli che abbiamo finito la stampa e alla fine vi ritrovate quello che volete non c'è nulla da andare a selezionare poi comunque col tempo magari vi verrà voglia di andare a capire di andare a cercare nelle varie opzioni come modificare come fare ma avete tutto il tempo godetevi per il momento la stampa come vi ho fatto vedere vi scaricate i vostri progetti e li mandate in stampa tra l'altro poi quando diventate anche un pochino più bravi magari qui sopra potete farvi una scritta in sovraimpressione un pochino in rilievo con su scritto non so magari torx di qua e di qui invece esagonali o addirittura parkside vi potete sbizzarire fare quello che volete magari se vi piace l'idea vi spiego come funziona e come si fa ad aggiungere magari una scritta su un pezzo ragazzi io per il momento spero di aver fatto cosa gradita facendovi vedere questo tutorial a questo video se avete delle domande da farmi me le fate qua sotto in descrizione io per il momento vi mando un grosso abbraccio e un saluto a tutti ciao a tutti ragazzi